Quello dell'Italia è un tempo sospeso, tanto sospeso che oggi a Firenze le famiglie più ricche e quelle più povere sono rimaste le stesse del Cinquecento, cioè di sei secoli e venti generazioni fa. Lo hanno scoperto lavorando sui cognomi due ricercatori della Banca d'Italia e recentemente il loro studio è stato spesso citato per dimostrare che da noi uno resta quello che nasce. Se nasce ricco avrà poco da temere. Certo non dovrà temere che lo Stato con le imposte possa intaccare la sua ricchezza per redistribuirne una parte sotto forma di beni e servizi destinati a tutti. L'Italia infatti è tra i pochi paesi con tasse di successione irrisorie. L'imposta di successione è il prelievo preferito non dagli estremisti contrari al libero mercato, dagli statalisti o dai socialisti, ma è l'imposta preferita dal pensiero liberale classico da Stuart Mill a Luigi Einaudi, i quali ritenevano disdicevole il fatto che il nipote imbecille di un nonno intelligente continuasse a vivere di rendita senza lavorare. Eppure ogni volta che in Italia qualcuno propone di rendere l'imposta di successione meno risibile, si assiste a una corale levata di scudi. Se nasciamo disuguali, come è ovvio e inevitabile che sia, c'è un'alta probabilità che disuguali si resti per sempre e questo è meno ovvio. Il Servizio Sanitario Nazionale e le altre garanzie dello Stato Sociale sono stati una grande conquista, ma restiamo disuguali nell'accesso alle cure, alla cultura, alla mobilità, alla comunicazione, all'istruzione. L'abbandono scolastico è un fenomeno che riguarda ancora quasi esclusivamente i figli dei poveri, come ai tempi di Don Milani. Sono disuguali i diritti e i doveri di genere tra uomini e donne, con discriminazioni non formalizzate ma interiorizzate, il che è assai peggio. Il rilievo delle disuguaglianze mi è stato chiaro mentre cercavo la risposta ad alcune domande che ci facciamo spesso quando parliamo dell'Italia. La prima domanda è siamo ricchi o siamo poveri? È una domanda che ha a che fare con l'autostima, con la disponibilità a fare sacrifici, con i progetti di vita, con la fiducia nella politica e nella democrazia. È una domanda che ci ha accompagnato negli anni del declino e ritorna oggi nella stagione della cosiddetta resilienza. Ma anche ora che le cose sembrano andar meglio è difficile dire se siamo ricchi o siamo poveri. D'altra parte la domanda sarebbe sensata se fossimo un solo paese e se la media delle nostre condizioni fosse la condizione comune. Ma non siamo un solo paese, bensì un arcipelago di classi e di tribù, di ceti e di generazioni, di territori diversi, di individui. Quanto alla media aritmetica sappiamo che si tratta dell'omaggio che la realtà rende alla statistica e quasi mai la statistica ci dice la verità. Una persona si definisce povera se ha un reddito inferiore a 640 euro al mese, ma si può essere poveri anche guadagnando il doppio. Una famiglia con un figlio a carico è considerata relativamente povera se il suo reddito netto mensile non raggiunge i 1.400 euro. Ce ne sono 2 milioni e 600 mila in queste condizioni. 2 milioni e 600 mila famiglie. Sono il 10% delle famiglie italiane. Esistono, come sapete, tanti modi di essere poveri. Ci sono alcune povertà mai conosciute prima, come quella di molti giovani insegnanti, delle persone che si prendono cura delle altre persone, degli addetti all'economia dei lavoretti o dei piccoli esercenti rovinati da Amazon prima e dalla pandemia poi. C'è la povertà generata, più che dai bassi salari, da quella di diffusione del part-time involontario, che finisce con il dimezzare salari in teoria accettabili. È la situazione in cui si trovano tre lavoratori dipendenti su dieci, in grande maggioranza donne. C'è la miseria degli esclusi dal mercato del lavoro, in particolare giovani e di nuovo donne, e quella dei braccianti o dei manovali stranieri. Infine c'è la povertà posticcia degli evasori fiscali, delle facce di bronzo che, addomesticando l'Isee, sono esentati dal ticket per la mensa del bambino che ogni mattina accompagnano a scuola con il SUV. Poi ci sono i ricchi, cioè per convenzione, le persone con un patrimonio che supera il milione di euro. La Banca d'Italia recentemente ci ha fatto sapere che l'anno scorso la ricchezza netta delle famiglie italiane ha superato i 10.000 miliardi di euro. Ma anche qui, attenti alle medie aritmetiche, i 40 miliardari italiani più ricchi possiedono l'equivalente della ricchezza del 30% degli italiani più poveri, cioè di 18 milioni di persone. In un anno i depositi sui conti correnti sono aumentati di 110 miliardi e tra questi ci sono anche gli 82 miliardi garantiti dallo Stato e prestati alle aziende nel primo anno di pandemia. Sono finiti quasi tutti sui conti correnti e non negli investimenti, come si sperava. Poi c'è un vasto patrimonio che riduce il rischio povertà per le famiglie più vulnerabili, c'è un welfare tra i più generosi d'Europa e c'è infine un'economia sommersa che vale 190 miliardi l'anno, il 10% del PIL. E dunque torniamo alla domanda iniziale. Siamo ricchi o siamo poveri? Poiché, come abbiamo visto, aumentano sia il benessere sia la povertà, forse l'aggettivo che indica la pista da seguire non è ricchi, non è poveri, ma è quell'altra, disuguali. Sì, sono proprio le disuguaglianze il tratto distintivo di questo nostro Paese, sempre più ricco, sempre più povero e sempre più indebitato. Una disuguaglianza decisiva, perché ne genera molte altre, riguarda il rapporto che i cittadini hanno con il fisco, dunque con lo Stato, dunque con gli altri cittadini. È in nero il 23% di ciò che accade nei settori del commercio, dei trasporti, della ristorazione e delle costruzioni. Il 14% delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Ebbene il 36% delle cosiddette altre attività nel settore dei servizi. Non paga contributi e tasse il 23% del lavoro domestico e il 17% di quello agricolo. Nero significa imposte e vase e per le imprese significa concorrenza sleale. Su 60 milioni e 400 mila italiani, quelli che hanno versato almeno un euro di IRPEF sono stati circa 30 milioni. Questo vuol dire che metà dei contribuenti ufficialmente non ha reddito e quindi non paga nulla di IRPEF. Alla domanda chi paga dunque il grosso delle imposte? La risposta è che le paga quel 13% di contribuenti, poco più di 5 milioni di cittadini, che dichiara redditi da 35 mila euro in su, vuol dire 2 mila euro netti al mese. Viene da loro il 60% delle tasse. È questo sparuto 13% della popolazione che tiene in piedi lo Stato sociale. Sono loro gli unici oppressi a cui potendo andrebbe ridotto il carico fiscale. Ma si potrebbe fare se qualche imposta la pagassero anche gli altri. Ma nell'agenda della discussione pubblica, della discussione mediatica e di quella politica, il tema dell'evasione fiscale ha uno spazio marginale o è addirittura assente. Lo storytelling prevede che si parli ogni giorno e con crescente disprezzo del reddito di cittadinanza. Ma sappiamo tutti che il reddito di cittadinanza e le altre misure dello Stato sociale, in particolare quelle contro la povertà, sarebbero a costo zero per lo Stato se si recuperassero uno o due punti percentuali delle imposte evase. Un'altra questione con cui siamo chiamati spesso a confrontarci è questo dilemma. In Italia manca il lavoro, come sperimentano milioni di persone, soprattutto giovani e donne, soprattutto al Sud, che lo cercano in vano, o invece mancano i lavoratori, come lamentano molte imprese che non trovano il personale di cui hanno bisogno. La risposta è che mancano entrambi, il lavoro e i lavoratori, perché manca la formazione. Agli istituti tecnici superiori, che sono corsi biennali o triennali di specializzazione professionale, dove si accede dopo il diploma, l'anno scorso in Italia gli iscritti sono stati 18.273. In Germania le Fachhochschulen, che sono il corso di studio analogo, sono laboratori e scuole di scienze applicate post-diploma, hanno avuto l'anno scorso 800.000 studenti e non a caso sono uno dei motori dell'economia tedesca. Quello che si dovrebbe fare, dunque, è molto chiaro. C'è una terza domanda. Siamo troppi o troppo pochi? E probabilmente è la domanda che consente di misurare meglio la portata dell'emergenza in cui ci troviamo. 40 anni fa in Italia vivevano 15 milioni di bambini e adolescenti. Adesso sono 10 milioni. I pensionati, che erano un quarto della popolazione, adesso sono un terzo. In questa forbice che tende ad allargarsi c'è l'emergenza demografica, minaccia più insidiosa di qualsiasi crisi economica, perché ne promette una strutturale e irrimediabile, quando i pochi non basteranno più a garantire le pensioni e le cure dei molti. Da sette anni il numero degli italiani è in costante diminuzione. L'immigrazione, che non siamo stati in grado di governare, è una risorsa demografica che si va esaurendo. Da tre anni gli italiani che se ne vanno sono più degli stranieri che arrivano. Nel frattempo un milione e mezzo di stranieri sono diventati cittadini italiani in silenzio, avendo maturato i requisiti. Ma nessuno se ne è accorto, ad eccezione delle maestre e dei professori nelle scuole, dei preti negli oratori, degli allenatori delle squadre giovanili, degli agenti che nei commissariati si occupano dei passaporti e dei permessi di soggiorno. Sono loro le nostre vedette, i nostri sociologi sul campo, i testimoni del cambiamento. Noi non siamo cattivi, siamo distratti. Avete mai letto un articolo sui nuovi italiani? Abbiamo molti primati in campo ambientale. Facciamo meglio di Germania, Francia, Spagna, sia per tasso di riciclo sul totale dei rifiuti, ricicliamo quasi l'ottanta per cento, sia per produttività delle materie prime. Per tasso d'uso di materia riciclata siamo secondi solo alla Francia, ma largamente al di sopra della media europea siamo stati pionieri nel settore delle rinnovabili. Ma è incredibile che nonostante la siccità i nostri acquedotti continuino a perdere il 40 per cento dell'acqua che trasportano e che molte città non siano ancora in grado di depurare le acque reflue. Nell'immediato futuro poi dovremo scegliere tra due ambientalismi, quello che mette al primo posto l'energia pulita e quello che dà la precedenza alla tutela del paesaggio. Ma davvero le pale eoliche sono uno sfregio anche se stanno in mare aperto a decine di chilometri dalla costa? Dovremo trovare un compromesso accettabile o passeremo i prossimi inverni al freddo? E infine dovremo decidere anche se vale la pena sacrificare la vita vera alla vita in rete. Dovremo scegliere tra la realtà e il metaverso. Naturalmente, quando non si propone di sostituirsi alla vita reale e fa dunque il proprio lavoro, l'ecosistema digitale è una miniera di opportunità e una formidabile leva di progresso. Ma occorre però costruire degli argini per non essere travolti dalla retorica che circonda i social. Occorre essere consapevoli che la disintermediazione garantita dalla rete non è affatto un modo per accorciare la distanza tra la realtà e la sua rappresentazione, come si sostiene. Ma è semmai un modo per comunicare senza essere contraddetti. In rete non sempre trionfa la libera circolazione delle idee e delle notizie, ma spesso la loro manipolazione. Non la democrazia dell'informazione, ma la dittatura della comunicazione. L'informazione ha come suo obiettivo la conoscenza. La comunicazione ha come suo obiettivo la persuasione. Sono missioni molto diverse. Oggi c'è un eccesso di comunicazione. Qualcuno ha notato che si sono moltiplicate gli uffici stampa, mentre sono diminuiti gli uffici studi. Anche questo è un aspetto del conflitto in corso, che si manifesta in ambiti diversi. Scuola a distanza contro scuola in presenza, diritto alla disconnessione contro smart working, riservatezza contro streaming, editoria tradizionale contro piattaforme digitali, abbracci contro emoticon, ma anche pensiero contro tweet. Uno che tifava per il pensiero, il filosofo Remo Bodei, che più volte ha onorato con la sua presenza a Pop Sofia, riflettendo sull'intelligenza artificiale, si chiedeva quanto potranno resistere, senza snaturarsi e diventare ideali irraggiungibili, quei valori di libertà, eguaglianza, dignità, emancipazione, umanesimo, pluralismo, rispetto per una verità non degradata a semplice opinione, che hanno finora caratterizzato la nostra civiltà. Si chiedeva quanto potrà resistere il valore della misericordia. Nel prossimo futuro credo che sia questa la sfida che ci attende. Grazie.